ciao raga bentornati sul mio canale youtube oggi come di consueto ogni venerdì siamo qua ad analizzare le promo uscite su fifa tuttavia oggi non si tratta di una promo specifica ma andiamo ad analizzare quello che è il secondo gruppone degli swap che finalmente ci hanno tirato in game contemporaneamente adesso ha rilasciato nei pacchi anche le icon moments quindi tanta tanta roba tuttavia devo dirvi che sono un po deluso perché parliamo di carte che comunque andremo a sbloccare tra un pochino a ridosso dei tots mi aspettavo molto di più onestamente non c'è nessuna carta che mi fa proprio risultare di gioia comunque senza perderci ulteriormente in chiacchiere passiamo sulla schermata del gioco dove andiamo a vedere quelli che sono gli scambi e quelle che sono secondo me le alternative migliori quindi passiamo subito sul nostro fifa e abbiamo come prima ricompensa nella sezione scambi delle sfide creazione rosa il buon pacchetto 25 giocatori 81 più con due gettoni va a sostituire quindi i due pacchetti ultimate e onestamente questo qua mi puzza molto di trappola non vedo la necessità di andare a sbloccare questo pacchetto visto che non ci sono neanche i toti di mezzo quindi non c'è neanche la volontà magari di cercare sculate pesanti quindi onestamente questo mi puzza di trappola così come mi puzza di trappola il 25 giocatori 82 più che sono entrambi fratelli gemelli sfigati dell'85 dell'83 più 25 giocatori ma con 5 token però anche in questo caso anche il 25 giocatori 83 più l'unica utilità che io ci trovo è quella magari di sbloccarlo per poter andare a magari fillare il club con giocatori da riciclare in sbc visto che non ci sono promo gustose come i toti quindi tentare la sculata all'interno di sti pacchi secondo me è abbastanza inutile quindi diciamo che per quanto riguarda queste prime tre scelte onestamente non ci andrei a riporre grossa attenzione a 7 token arriva il primo giocatore parliamo di deco prime moments amici miei deco prime moments un metro e 74 di giocatore alto normale piede destro 4 di skill e 3 di piede debole 4 di skill e 3 di piede debole velocità che per carità è anche diciamo onesta potenza tiro 88 finalizzazione 87 passaggi devo dire lodevoli per essere agile sicuramente agile visto body type agilità 90 reattività 90 dribbling 91 forza 66 ma questa è una carta che vista così si presenta a solo per poter fare il coc coc che al momento all'interno del gioco ne pullula ma banalmente un ne mar base 100 x questo deco che onestamente con tre di piede debole molto molto ambiguo è inferiore anche già tu nel sharawi quindi io sette token per sto deco anderson luiz da sosa da silva da ferreira da pacascio non lo andrei a prendere onestamente quindi anche qua diciamo che in questa prima pagina diludendo diludendo di dilusione quindi andrei a vai passare tutti questi qua a invece otto token abbiamo pacchetto con a base che insomma anche qua pacchetto con a base a marzo per otto token voglio di non mi sembra il caso così non mi sembra il caso stessa cosa pacchetto e con a media a 9 token vai passato anche lui a 9 token abbiamo ashley col terzino sinistro qui magari se uno ci ha bisogno di un terzino icon il buon ashley un metro e 76 alto normale sinistro 32 con un'ottima velocità e accelerazione ottimi anche passaggi agile agile ha anche tanta roba in statistiche difensive in particolare il 90 di lettura difensiva che significa diagonali quindi tanta roba 71 di forza un po così così ottimo l'85 di aggressività però anche qua siamo in una fase del gioco dove avete un mend che costa 10k e vi fa il suo c'è dalot teo hernandez kurzawa per chi l'ha sbloccato c'è proprio tanto tanto materiale andare a sacrificare 9 token su un ashley col insomma non credo che ne valga la pena così come non vale la pena andare a sacrificare 10 token sul pacchetto icona medio prime perché insomma c'è sempre quel dubbio tra le due e non è che le carte che possono uscire sono tanta roba a 11 token abbiamo marcolino sopra marte tra l'altro ieri c'è stato anche lo sbarco su marte della sonda momento scienza dato anche tutto a posto un metro e 73 alto normale 3 di skill e 5 di piede di piede debole marco sopra marte andiamo a vedere le statistiche per carità veloce veloce anche un tiro discreto passaggio corto buono e lungo molto da rivedere agile 92 equilibrio 91 reattività 94 per una carta che un metro e 73 quindi agile sicuramente agile ma parliamo di una carta con 3 di skill ma 3 di skill per un giocatore che va a fare l'esterno ma dove quando come perché al più posso pensare di utilizzarlo seconda punta ma con 3 di skill quest'anno seconda punta per passarsi palla e girare destro sinistro perché almeno 5 piede debole ce n'ha ma insomma di che stiamo parlando stiamo parlando di follie secondo me il buon overmars onestamente anche qua lo andrei a bypassare così come andrei a bypassare il pacchetti con a prime a 12 a 12 token visto che è ricco di insidie e finalmente a 13 token invece arriva la prima carta degna di questo nome ovvero il buon loran blanc difensore centrale un metro e 92 normale alto 2 3 parametri di velocità che sono un po alla van dick quindi sapete che insomma secondo me sono un attimino da rivedere con il meta di quest'anno passaggi tanta roba per un difensore con l l2 si muove bene visto che ha 74 di agilità tantissima roba chiaramente le statistiche difensive 84 forze 85 di aggressività anche qui tanta roba adesso la valutazione che va fatta su blank è esattamente questa vi serve un difensore centrale icon sì bene posso prendere blank con questi token me lo prendo gratuitamente ed è un signor difensore non mi serve un difensore icon da mettere titolare non prendo blank perché in un meta nel quale un gioco a mezz base fa il suo in un meta nel quale c'è un terzino destro come james a 350 barra 400 che spostate dc e fa il suo ci sono tante carte varan che per me è più forte di sto blank g menets diego carlos kloster manchi più ne ha più ne metta che sono molto più veloci e si sposano meglio con il meta attuale quindi insomma valutate attentamente blank solo nel caso in cui avete necessariamente necessariamente bisogno di un difensore centrale icon pacchetto icona prime 91 più a 14 token vi dico potrebbe essere interessante e vi dico potrebbe essere interessante perché io ho fatto un attimino un'analisi di scenario che vi faccio vedere e mi sono andato a vedere quelle che sono le icon che è possibile trovare con 91 più di valutazione abbiamo check che è un ottimo portiere swainsteiger che è un buon centrocampista torres che è un ottimo attaccante lam che è un ottimo giocatore ovviamente rush e close molto rivedibili blank che è un ottimo giocatore carlos che è un ottimo giocatore viera che è un top clivert se esce si può pure usare laudrup da evitare socrates che c'è a chi piace a me non fa impazzire poi abbiamo raul che è un buon giocatore ugo sanchez bobby moore da rivedere butraghenio che è un buon giocatore lineker che è da rivedere del piero che è un buon giocatore puyol che è insomma un po così e così berkamp che non è malvagio smichael dal glisch e to che assolutamente sono forti molto molto forti c'è sto beckham che si potrebbe switchare a centrocampo schierer scolz da rivedere desalisedorf tanta roba ballack che sarebbe anche usabile owen treseghen edved e shevchenko così come gerard richelme drogba così e così van der star kakà ottimi ruiz hierro e agi così come coeman anche qua così e così e poi arriviamo nella pagina diciamo dei big boy dove abbiamo pele maradona zidane ronaldo ronaldigno cruif yashin maldini mané garrincia puskas baggio e arri da rivedere così come baresi tanta roba carlos alberto bambasten non ci piace gulit best mataus e eusebio cantona chavi non ci piace non ci piace neanche gigs zanetti nesta e cannavaro così come rivaldo e stoiccio figo e pirlo vanisterro da evitare quindi se si dovesse andare a prendere un pacco icona prime io onestamente andrei a scegliere questo qua che è il più appetibile almeno ci avete la possibilità di tentare una sculata di un certo tipo a 15 token abbiamo emilio butraghenio baby che mi rifiuto di commentare a 15 token un'icona baby insomma con tre di piede debole che quest'anno sapete bene che non può minimamente circolare a 16 token abbiamo secondo me quella che è l'opzione più valida ossia pacchetto icona prime o moments perché vi dà la possibilità di poter fare una sculata epica non vedo attualmente delle carte tra queste che abbiamo visto in precedenza meglio di quel pacchetto icona prime o icona moments hanno posto un gruppone di swap che ti permette semplicemente di dire ok ma sa che c'è di nuovo io vado a prendere questo e tento la sculata magari fate una sculata del tipo r9 moments eccetera ma che comunque non magari non succede però c'è sempre il gusto di andare a provare perché tra tutte ste carte non c'è nulla ma proprio nulla che vi svolta una squadra siamo sotto i tots ma questi si vogliono svegliare un attimino vi ripeto profonda delusione abbiamo poi a 17 token in bombo bibaggio moments che in realtà avrebbe anche stats della madonna ma io l'anno scorso raga questo l'ho provato non si gira nonostante sia 1 e 74 con 86 di agità non si muove questa è una carta troll fidatevi poi per carità per gli amanti dell'italia del divin codino del del pizzetto qualcuno lo sbloccherà e non ho nulla in contrario però secondo me l'unica possibilità di svoltare in questi swap e questo pacchetto con a prime moments è l'unico che può dare al vostro account quel quid in più perché tra tutte queste scelte che vanno messo ragazzi miei veramente grande e profondissima tristezza non mi aspettavo non mi aspettavo un evento con un evento così deludente mi aspettavo qualcosina di più goloso ecco non l'ho capita questa scelta visto che vi ripeto siamo sotto tots a breve e veramente una profonda amarezza tanto tanto hype che secondo me è stato è stato spento proprio come se fossero arrivati pompieri con gli idranti e niente quindi riassumendo gruppo swap che è questo la mia scelta ricade sul pacchetto con a prime moments che quella che consiglio anche a voi se non ci avete voglia di try a darli tutti magari provate l'icona prime 91 più che si piazza al secondo posto al terzo posto vado a mettere magari quel blank quindi questa è la mia personale classifica e quello che andrei a fare io voi fate le vostre valutazioni sono uscite anche le moments sul mercato quindi magari è possibile ritrovarle nei prossimi pacchi quelle eccetera eccetera magari ce cascano e nulla per quanto riguarda quindi ragazzo gruppone swap è tutto vi rinnovo la mia il mio dispiacere perché mi aspettavo tanto in più fatemi sapere voi che ne pensate nei commenti lasciate un like e un commento per lo appunto iscrivetevi al canale che stiamo andando una bomba ragazzi mi fa super piacere in descrizione trovate tutte le info per le live giornaliere sulla piattaforma viola e a meno resta altro che salutarvi augurarvi una buona serata e ci si vede domani ciao ragazzi